Salve a tutti ragazzi, bentornati con questo nuovo appuntamento con WWE Super, cari signori, nuovo mese, nuovi eventi, abbiamo tante cose da farci intanto quest'oggi, questa settimana abbiamo anche questo codebreaker con il ritorno di Ruloventem, signori, l'altissimo lo vediamo Ok, i codebreaker non sono molto fan di questo tipo di event, infatti non lo sto giocando, voglio fare giusto quei pochi livelli che mi permetteranno di poter sculare un pacchetto alla fine dell'evento Questa è già successa, abbiamo trovato una roba veramente incredibile, però quest'oggi non siamo qui per questo perché abbiamo anche altre belle cosette da vedere perché è iniziato l'evento Cinco de Mayo, andiamo a vedere appunto negli annunci abbiamo qua Cinco de Mayo signori, buon Cinco di Maggio a tutti, celebra con le nuove carte festive di Electra Lopez, Dirt Dominic, Misterio e Andrade Si possono trovare sia nel tabellone draft e anche nella missione che è semplicissima, la missione che porterei a termine anche subito, purtroppo mi ci mancano ticket ma recuperiamoli, assolutamente importanti La missione in evidenza è la missione ovviamente Cinco de Mayo che come opportunità ci darà comunque una delle tre carte, quindi signori fatela perché è veramente easy, ci farà portare a casa una di queste tre carte uniche dell'evento Che abbiamo? Questa è la carta di Andrade che è molto molto bella sinceramente, comunque come design è molto molto carino, mi piace Poi ovviamente abbiamo anche quella di Dirti, Rodomic, il Misterio che a me l'uomo mi piace però che devo fare? Se devo prendere la accetteremo, che devo fare? E poi Electra Lopez è l'unica donna di questo tipo di evento e sinceramente la preferirei a questo punto perché come livello del deck ok ci siamo più o meno Al momento abbiamo soltanto, purtroppo, una però soltanto per essere 40 ma un'altra in cantiere da farci, vi la faccio vedere dopo Tra l'altro finalmente dopo una super pullata in draft board ce l'ho fatta a indovinare la carta perché non ce l'ho quasi mai fatta Comunque la missione è questa qui, è semplicissima, abbiamo fatto ripristinare il tabellone del draft 50 volte che ve lo dia a fa Ci porterà un pacchetto con la possibilità comunque di arrivare fino ad aver essere 40 C'è tutto, si parte da Tempesta in su quindi tutto quanto la stagione 10 è qua Però potremmo sculare che ne sai un pacchetto interessante Poi abbiamo ovviamente con 20 tickets quindi se voi avete accumulato i tickets nel tempo E li andate appunto a pullare dalla vostra posta, quelli che avete accumulato e non li avete appunto raccolto giornalmente E' il momento di farlo fino a 20 e vi dare appunto la ricompensa al collezionista di valuta Che è un pacchetto che anche questo qui comunque l'opportunità di arrivare fino a presto al 40 c'è Di nuovo da Tempesta in su quindi tutto quanto la stagione 10 sta in questo pacchetto Per la super mossa questo qui vi consiglio comunque di utilizzarlo sempre in eventi dove si utilizzano molti match Quindi Royal Rumble in primis Anche per quanto riguarda l'incontro in carisma infatti vi faccio vedere Questo un po' per i neofiti del giovere che so Sicuro che voi veterani questa cosa proprio la fate naturalmente Cioè proprio vi viene spontanea Comunque per quanto super mossa ci danno due gettoni fusione oro Comunque è buono perché ovviamente sono scelte anche da poco le fusioni quelle per essere le meni Quindi se qualcuno manca questi gettoni qui le può raccogliere o qua o nel mercoledì Nel mercoledì wild oppure in King of the Ring E per il King of the Ring potrebbe essere più complicato E vabbè Per quanto riguarda l'incontro in carisma ok E' già partita in qualsiasi modo la lega pvp Usate direttamente queste due missioni in uno Perché andate direttamente a fare in pvp e farvi la Royal Rumble Io ho cercato di fare un mazzo con più carte con la freccia in basso Freccia in basso perché equivale al carisma Appunto vi chiederà appunto il match sul carisma Quindi più match sul carisma fate più completerete la missione E più ovviamente ogni volta che farete match vi conterà anche l'altra della pvp E questo è quanto La missione è semplicissima completatela in pochissimo tempo E avrete una delle tre carte nuove del 5 del maio Piccolo aggiornamento per quanto riguarda il mio deck L'unica differenza che abbiamo E' il carion cross che abbiamo ottenuto Però nello scorso video Non vero se me l'ho fatto vedere o era in live Ad ogni modo lui è il nostro primo Vressler Vressler Mania 40 Che abbiamo fatto pro In cantiere però abbiamo anche un'altra Un'altra signora Andiamo a vedere Combinabili Vressler Mania 40 E abbia Troppa roba Ok Bfab signori Abbiamo pure lei che All'omento non ho allenato né una né l'altra Quindi è il momento di metterli nel performance center E per quanto riguarda le donne Ok Dove stanno quindi donne Vressler Mania 40 Che direi comunque su quei sono più importanti All'omento abbiamo T5 Stratton Che è il numero dove abbiamo preso Gircarge Presso dall'evento in team E V-Nile I V-Nile forse mi sembra l'ho trovata O in un reset pool Mi pare di si E ovviamente Bfab che abbiamo trovato Quest'oggi L'ultima super pool In track world Camera di fusione Che al momento non posso Andare a farmi ancora Del Superstar V-Nile 40 Ne abbiamo ben due Per il momento abbiamo Soltanto Bronson Reed E abbiamo Soltanto Dov'è 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 Di Gianni Gargano E niente Comunque abbioteremo questa missione Avremo 3 gettoni su 5 Quindi se riusciremo magari Entro prossima settimana A farcene un'altra Benissimo Dai a questo punto Performance center Che Ah giusto L'ho messo qui a fare la variante Che a questo punto Sì Variante Signori Ho capito Com'è che funziona Praticamente Tanti voi mi avete comunque detto Che la variante Non viene considerata Fondamentale Per quanto riguarda Se farla prima O dopo La versione pro Della carta Quindi Diciamo che questa è la variante Se viene fatta prima Risparmiare soltanto Che tempo Se la fate dopo Dovete soltanto Farne di più Di varianti Niente di che Verranno sommate appunto Alla carta Non è che La carta è di minore Di forza o meno Rimarrà sempre Allo stesso potenziale Dovete soltanto fare Le varianti Rimanenti Quelle dopo Quindi o farle prima O dopo Non fa assolutamente differenza Ormai è 100% Proprio dal di fatto E niente Infatti Ho deciso da fare 20 incontri Adesso lo sto Carriando qua Perché tanto si fa prima E a questo punto Vi metterei Le nostre due Come dire Le nostre due bifab Le mettere direttamente qua E anzi A questo punto Sarebbe la miglior cosa Di unire tutte quante Le missioni in una E farci Le Royal Rumble Femminili In modo da Accelerare appunto Qua nel performance center E niente E finire appunto La missione del 5 de mayo Tutto lì Dobbiamo soltanto allenarla Va bene Dai prendiamoci un pacchettino Ah giusto Poi abbiamo anche Il Bunch of punches Qui In questo evento Qui ci sono Ancora Le carte Quelle estive Che è primaverili E purtroppo Finché non completiamo Il primo E niente E purtroppo Pugni gratuiti Oggi Li ho dati tutti Quindi I pugni gratuiti Li ho già dai Fantasimo E come si dice Stas E niente In momento Non possiamo farci Nient'altro Quindi va bene Dai Squatiamo un pacchettino Un po' Se ci sa fortuna Non si sa mai Nella vita E il secondo È baccato Vabbè Grazie Comunque A parte tutto Se andiamo a vedere Qua nell'accesso Giornaliero Questa è La road Di maggio Allora 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 Il Questo gioco Vi di appunto Codebreaker Prossima settimana Prossima settimana Abbiamo intanto Il nuovo Battle Pass Quindi Avevamo pronosticato Che se ci dovesse essere Prima Un nuovo Aggiornamento Con un nuovo Livello Sarebbe arrivato Appunto Il giorno Del Battle Pass Ovvero L'8 di maggio Ora c'è da fare Un piccolo ragionamento Perché Giovedì Dopo C'è la Women War Games E noi sappiamo Benissimo Che in genere Gli eventi Femminili Sono gli ultimi Quelli che vengono Messi Alla fine Del livello In questione E War Games Femminili Più Ring Domination Appunto Sarebbero In questo caso Gli ultimi Eventi Vrestle Mena 40 Perché Prossima settimana Il 22 Ci sarebbe Un aggiornamento Oggi arriva Un nuovo Aggiornamento Da Blue Supercard Non c'è Detto Se sarà Un aggiornamento Che riguarda Il nuovo Livello Se sarà Un aggiornamento Che riguarda Magari Nuovi Eventi O Nuove Non c'è Detto Niente Nuo Aggiornamento Da Blue Come anche Lo scorso Mese Rascritto Nuovo Aggiornamento Che poi Abbiamo Modo Di Scoprire Quello Del Dei Team Quindi Qui Potrebbe Essere Tutto Ancora Non si Sa Seriamente Più Avanti Andremo Più Avvicineremo A questa Data E Scopriremo Quale Sarà L'aggiornamento Però Però Se Dovesse Esserci L'aggiornamento Appunto Al nuovo Livello Il 22 È Brutto Vedere Questo Battle Pass Cominciare L'8 Perché Sarebbe Ancora Il Livello Vreste Le Mane A 40 Quindi Ti giocheresti Tutto Quanto Il Battle Pass Per Una Vintina Di Giorni Quello Che Sarà Il Livello Vreste Le Mane 40 Mentre Due Settimane Dopo Comincia Un Nuovo Livello Non Ha Senso È Già Successo Però Vai A Sapere Perché Poi Comunque Non c'è Né Flash Né Niente Però C'è Una Giant Più Rottoglory Che Mena 40 Non Lo So Non So Cosa Pensare Sinceramente Non Non Lo So Però Se Non Sarà Il 22 Di Maggio La Data Utile Per Il Livello La Data Utile A Questo Punto Visto Che Sappiamo Che Fino Al 30 C'è Un Evento In Coppia Potrebbe Essere L'aggiornamento Il 5 Di Giugno O Settimana Successiva Vedremo Vedremo Se L'aggiornamento Me lo Non È Una Mossa Di Marketing Bella E Buona Perché Tu Mi Metti Un Nuovo Livello E Poi Perché Dovrei Shoppare Il Battle Pass Per Un Livello Non Mi Serve Più Non Lo So Ditemi Se ne Pensate Ma Non Serebbe Una Mossa Intelligente Quindi Probabilmente Un Nuovo Livello Arriverà A Giugno E Non Adesso Poi Bo E Detto Questo Signori Io Intanto Mi Riavvio Una Bella Hang Of The Ring Non C'è Nient'altro Da Fare Anzi Vi Lascio Qui Subito Un QR Code Preso Direttamente Da X Che Comunque Qualcosina Ce la Da Non È Un Pacchettino Easy Bellino A Tema Ricochet E Io l'ho Già Riscosso E Carino Va bene Dai E Innanzi Signori Non C'è Troppe Altre Oste Da Dire Siamo Qua Vediamo se Sono vicino A prendermi Ok Possiamo farci 700 punti Per poter Provare Una Un'altra Borda Esclusiva E concludiamo Il video Così Signori Non c'è Neanche Niente Sullo Store Online Ci sono Dei pacchetti Interessanti Costano Anche Poi Ci sono Delle offerte Veramente Imperdibili Se vi va Comunque Guardateci Comunque Ci sono Probabilmente Più Delle offerte Là Sul sito Ufficiale Che è qua Direttamente Qui C'è Molta Più Basta Scelta Quindi Più Chi volesse Shoppare È possibile Shoppare Direttamente Nella pagina Del web Vabbè Dai Andiamo 447 Su 500 Abbiamo un sacco Di carte Da poter Buttare Vediamo Un attimo Alleniamo Intanto La prima Vfab Poi La seconda Se possiamo Utilizzare Per esempio Qualche Carta Allenamento Perché Ne abbiamo Un po Credo Intanto Cambiamo L'immagine Per riconoscerla Qualora Dovremmo Farci Tipo Ah C'avevo Anche Quella Wow L'avevo pescata Anche Estiva E Primaverile Non me lo Ricordavo C'è 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 Immagine Differente Per riconoscerla Poi Voglio mettere Appunto Nella Rumble Quindi Miglioramenti Qualcosa C'ho Qualcosa Anche Nei Pacchetti Con i Tickets Insomma Tra l'altro Un pacchettino Da 25 Così Lo faccio Sapete C'erano 41 Facciamoci Un pacchettino Da 25 C'è qualcosa Di straordinario Qui No Undertaker Dai Prendiamoci 3 2 1 Let's go No Quali erano quelle che mi mancano Onestamente Dalla Dalla collezione Uh posso rifarmi Una Rumble Bello Vediamo un attimo Che mi manca Allora mi manca Bianca E The Rock Bianca E The Rock Non ho Bianca Ma veramente Vediamo un attimo Quanto potrebbe Costarmi Craftare Una carta Royal Rumble Bianca E Belair Costerebbe La bellezza Di 2375 E 216 Gettoni Beh sarebbe inutile Farne una Facciamo le stesse Noi magari troviamo O The Rock O Bianca Potremmo Craftarci La rimanente In modo da poterci Prendere La carta Da collezione E quindi Il pacchetto Wrestling Mania Potremmo tentare Andiamo a spendere Qualche Supergetto A farci Una bella pescata Non si sa Mai Magari Li troviamo Per davvero Che ne sai Ci sta eh Dai Andiamo a pullarci Tutte e 70 Le carte E vediamo se Esce un The Rock O una Bianca Let's go Andiamo a pullarci E Andiamo a pullarci e ultimo niente nemmeno neanche una rova in rambola l'abbiamo tirato fuori da questa pollata vabbè comunque 1765 punti abbiamo preso un bel po' di carte tundra e ci danno un sacco di punti signori quindi andiamo a farci una scelta esclusiva io ovviamente come sempre lo domando al mio assistente vediamo un po' quante carte mi mancavano abbiamo ben tante 4, 8, 12, 14 hey google dimmi un numero da 1 a 14 ecco un numero a caso 9 4, 8 9 no non c'è presa e io sky niente poteva essere al minore al rambola che non dirò da quell'altra accidenti vabbè 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 signori ok dai io penso che questo video possa essere tutto non c'è nient'altro da fare continuerò con questa missione 5 de maio voglio portarmi a casa assolutamente una di queste tre carte e niente se riuscirò a farla però in qualche modo bene che poi vabbè ci sono pacchettine ma si possono trovare anche in draft board quindi è difficile perché ovviamente siamo lontani anche dal ripriso non garantito però che ne sai e niente ragazzi si riuscirò a questo video spero vi sia piaciuto ci vediamo prossimamente in live e con un nuovo video ciao iscriviti al canale grazie a tutti